Musica Depuratore, il sindaco di Benevento Mastella chiede nuovamente un incontro al ministro dell'Ambiente Costa. L'ospedale Sampio esposto in procura, l'associazione Io per Benevento evidenzia molte incompatibilità e presenta una denuncia. Camion in fiamme, laboratorio incendiato, vigili del fuoco in azione a Parolise e a Torrette di Mercogliano. Camion piano di sigarette di contrabbando, blitz della finanza al casello di Napoli Nord. Calcio, Serie B, Bucchi in conferenza, voglio un Benevento sbarazzino e spavaldo, non dobbiamo mostrare il fianco agli avversari. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha inviato una nuova richiesta di incontro urgente al ministro dell'Ambiente Sergio Costa relativamente al problema dello smaltimento delle acque reflue che non da ora affligge la città di Benevento. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha scritto al comando di Polizia Municipale affinché venga disposto un organico programma di vigilanza e controllo sugli scarichi fognari al fine di accertare che non vi siano stati sugli stessi interventi in ampliamento e che non ne siano stati aperti di ulteriori rispetto a quelli già oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. I controlli, si legge nella lettera, dovranno altresì estendersi agli interventi edilizi anche di modesta entità e alle nuove attività commerciali, artigianali e industriali e alle relative variazioni, onde accertare che siano depitamente autorizzati dai competenti uffici comunali e non sfugano pertanto alle restrizioni disposte dai competenti uffici. Nella nota inviata per conoscenza anche ai dirigenti del settore urbanistica e del settore lavori pubblici, questi ultimi sono stati invitati a proseguire con il massimo rigore nelle misure restrittive intraprese nel rilascio delle autorizzazioni amministrative di loro competenza al fine di impedire l'aggravio del carico inquinante. Intanto il primo cittadino Mastella, nelle stesse ore, ha inviato una nuova richiesta di incontro urgente al ministro dell'Ambiente Sergio Costa relativamente al problema dello smaltimento delle acque reflue che non da ora affligge la città di Berevento. In particolare ricorda il sindaco nella missiva, la rete fognaria comunale è priva di un adeguato organico sistema di depurazione che non si potrà mai realizzare senza un fattivo sostegno finanziario del ministero. La necessità di tale incontro è ormai improcastinabile in quanto alcuni interventi propedeutici alla realizzazione del sistema di depurazione cittadino non possono essere realizzati senza un definitivo impegno finanziario da parte del ministero dell'Ambiente e della regione Campania. L'azienda ospedaliera Sampio è esposto in procura. L'associazione Io per Benevento evidenzia nuove incompatibilità e presenta una denuncia circa la gestione del nosocomio sanita. Hanno atteso delucidazioni, magari una conferenza stampa, invece l'incontro con i giornalisti non c'è stato, almeno per il momento. Così l'associazione Io per Benevento a sua volta ha radunato gli organi di informazione e pubblicamente ha chiesto l'UMI sulla gestione del nosocomio sanita ed in particolare sull'incompatibilità che sarebbe stata rilevata nell'azienda ospedaliera Sampio di Benevento per alcuni medici che lavorano presso la struttura pubblica e che presterebbero servizio anche presso una clinica privata. Non c'è soltanto un problema di ordine sanitario nei nostri ospedali, ma abbiamo rilevato un caos anche a livello amministrativo. Ci siamo preoccupati anche di documentare questo caos e abbiamo iniziato da una delibera pubblicata sul sito aziendale dell'azienda ospedaliera Sampio che è la numero 164 del 13 marzo 2019 che parla di un rinnovo di convenzione dove i medici neonatologi dell'azienda ospedaliera Sampio vadano ad operare in questa struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. Ebbene la legge numero 412 del 30 dicembre 1991, articolo 4,7, è chiarissima e praticamente esprime l'incompatibilità assoluta di medici pubblici, quindi di medici che lavorano nella struttura pubblica, quindi con il Servizio Sanitario Nazionale, di andare ad esercitare in qualsiasi altra struttura. L'ipotesi di reato sono tre a nostro avviso, c'è un'ipotesi di abuso d'ufficio, c'è un'ipotesi di omissione e qualora avessero continuato ad incassare anche l'indennità di esclusività, perché il medico incassava una certa indennità per l'esclusività del rapporto di lavoro, c'è anche la truffa. Sotto la lente dell'Associazione e dei suoi legali, anche quello che Giuseppe Schipani, presidente del Sodalizio, definisce un caos amministrativo che sarebbe stato prodotto. Partendo dall'atto aziendale che per esempio non è conforme con il piano ospedaliero regionale, quindi a questo punto anche qui i nostri legali stanno valutando, faremo un ulteriore esposto, perché probabilmente tutti gli atti prodotti potrebbero essere illegittimi e quindi annullati. I nostri ospedali sono mancanti anche da un punto di vista di direzione sanitaria, manca il direttore sanitario, il direttore generale pare che l'abbia motivato dopo mesi, dal fatto che la nostra, fino a qualche giorno fa, la regione Campania non era dotata di un albo dei direttori sanitari cui poter attingere, non è vero perché la legge prevedeva che insomma questa selezione poteva avvenire anche in un albo di un'altra regione, quindi poteva sicuramente ottemperare la cosa. C'è stata una rilevazione da parte dei miei collaboratori che mi informano di un attivo di 18 milioni di euro da parte della regione Campania, di cui 15 milioni di euro pare siano stati trasferiti dall'ospedale Rummo, quindi dall'azienda ospedaliera San Pio alla regione per non averli utilizzati. Insomma noi ci chiediamo con una struttura ospedaliera fatiscente, con tecnologie, attrezzature obsolete, con mancanza di organico, insomma come può essere che non servono a questi ospedali, sia a quello di Benendez, 15 milioni di euro. Ci sembra assurdo insomma. Nell'occhio di Schipani e compagni anche una shortlist. Eppure questo è avvenuto. C'è un concorso per una shortlist di avvocati che è stata indetta qualche settimana fa e dove anche lì abbiamo rilevato un broglio esagerato, insomma evidente e palese, dove l'elenco dei vincitori era uguale all'elenco dei perdenti, quindi le persone che avevano vinto il concorso risultavano anche escluse. Questo non si è capito insomma come è avvenuto. Anche qui attendiamo, voglio dire, luce. Ed è questo fatto del concorso. La shortlist è stata modificata tre volte. Poi c'è un concorso a tempo determinato per amministrativi, dove sono arrivate 700 domande, quindi 700 concorrenti, partecipanti e poi di botta questo concorso senza motivazioni è stato addirittura annullato. Siamo alla cronaca. Il corpo di Antonino Dandò, uomo del clan Amato e vittima di Lupara Bianca per mano dei Pagano, è stato ritrovato. I carabinieri hanno proceduto alle operazioni di scavo in una zona di campagna in via del Re ad Arzano, laddove i killer di Antonio Dandò, tutti sotto processo, hanno detto di avere sepolto la vittima a seguito dell'omicidio consumatosi il 2 febbraio del 2011. Le ossa di Dandò sono state trovate all'interno di un sacco bianco. I killer hanno confessato in tribunale nell'udienza che si è tenuta lo scorso 22 marzo dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Camion in fiamme, laboratorio incendiato, vigili del fuoco in azione a Parolise e a Torrette di Mercogliano. Momenti di paura nella mattinata di oggi a Parolise, in provincia di Avellino, dove un autocarro è stato improvvisamente interessato da un incendio. Stando a quanto si apprende, il mezzo stava percorrendo via le unità d'Italia, quando è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L'uomo alla guida dell'autocarro al momento dell'incendio, per fortuna, è riuscito a mettersi in salvo, prima che fosse troppo tardi. Per lui tanto spavento, ma nessuna grave conseguenza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'aria. Sul posto un percorso alternativo alla strada statale e sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Chiusano San Domenico, che hanno messo e subito gestito la circolazione automobilistica, fortemente rallentata sia durante l'incendio che successivamente durante le operazioni di rimozione del veicolo completamente distrutto. Ai militari dell'arma e ai pompieri spetta ora stabilire le cause dell'incendio. Altro intervento in via nazionale Torretti a Mercogliano, per un rogo che si è sviluppato in un laboratorio ubicato al piano seminterrato di un esercizio commerciale del posto. I fumi della combustione hanno invaso le scale dell'edificio di quattro piani e due coniugi sono rimasti bloccati nella loro abitazione al terzo piano. Che l'ausilio dell'autoscala, i pompieri hanno provveduto a mettere in salvo i coniugi che sono stati consegnati ai sanitari del 118, i quali li hanno visitati sul posto ed oltre allo spavento non hanno subito grosse conseguenze. Le fiamme sono state spente e messe in sicurezza la struttura. Camion pieno di sigarette di contrabbando e il blitz della Guardia di Finanza al casello di Napoli Nord. Il servizio. Oltre a una tonnellata di sigarette di contrabbando pari a 6.100 stecche sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Caserta. al casello di Napoli Nord dell'A1. Il carico illecito era un furgone telonato proveniente da Trieste che trasportava decine di scatole di cartone contenenti condizionatori portatili destinati ad un rivenditore dell'Interland napoletano. Durante il controllo sono emerse le prime anomalie visto che all'indirizzo di consegna riportato nella documentazione di accompagnamento il rivenditore napoletano non risultava avere alcun deposito. Il mezzo è stato così portato in caserma ed ispezionato con cura. I militari del nucleo di polizia economico finanziaria di Caserta hanno scoperto che all'interno delle scatole vi era solamente la scocca in plastica dei condizionatori mentre al posto del motore e dei serbatori di acqua erano stati nascosti solamente pacchetti di sigarette di contrabbando. Una volta svuotati tutti i cartoni sono stati contati 16.000 pacchetti per 1,2 tonnellate di chip white di marca Compliment occultati in 120 scocche di elettrodomestici. Il conducente del mezzo è stato denunciato. Fiume Sarno al centro dell'agenda di numerosi sindaci della Salernitano le fasce tricolori oggi hanno fatto sentire la loro voce a Roma. Tutti a Roma per dare una svolta all'emergenza ambientale del Sarno. I sindaci dei comuni attraversati dal fiume e dai suoi affluenti sono stati ricevuti dal ministro all'ambiente Sergio Costa per l'illustrazione del progetto per arrivare finalmente alla soluzione di un problema atteso da tanti anni il disinquinamento del bacino idrografico del Sarno e dei suoi affluenti Cavaiola e Solofrana. Sono tre le province coinvolte, Avellino, Napoli e Salerno. È intervenuto all'incontro anche il vicepresidente della regione Campania Fulvio Bonavitacola che ha illustrato le diverse azioni messe in atto dalla regione. Il ministro Costa aveva annunciato questa sorta di assemblea durante le sue visite ai luoghi deturpati dai corsi d'acqua. Lo aveva fatto la prima volta nel novembre scorso quando visitò Scafati. Successivamente, era il 15 dicembre, da Solofra e fino a Castellammare il ministro attraversò tutto il percorso del fiume Sarno. Mise in atto le sue doti di investigatore, è un generale dei carabinieri, per verificare qual è lo stato del fiume, per toccare con mano quanto è scritto nei documenti. E fu in quell'occasione che annunciò di voler incontrare gli amministratori delle città avvelenate dal fiume per definire un piano di zona reale e non sulla carta. La campagna è la punta dell'iceberg di un inquinamento non solo italiano ma globale. Le conseguenze saranno drammatiche e a pagarle saranno le future generazioni anche se già oggi il conto è davvero salato. se si tiene conto delle malattie che stanno attaccando migliaia di persone. E' il pensiero di padre Alex Zanotelli, religioso atipico, che dà le colpe anche alla Chiesa. E in questo la Chiesa ha grosse colpe. La Chiesa qui deve aiutare molto di più la gente, toccare le coscienze. Qui io direi che la campagna è la punta dell'iceberg di un problema che ha sommerso ormai tutto il mondo. Qui l'abbiamo chiaramente resa ancora più drammatico con la terra dei fuochi, con tutti questi seppellimenti di rifiuti. Anche qui non ci stiamo muovendo e stiamo morendo di tumore. E' incredibile quello che sta avvenendo. Qui la gente secondo me non ha mai preso coscienza, ma soprattutto non è mai stata capace di mettersi insieme e dire basta. Se il popolo non si muove, il popolo campano non si muove, dice basta e forza i politici a fare determinate cose da qui non se ne esce fuori. Si è tenuta presso l'aula magna dell'Istituto Santa Caterina da Siena Mendola di Salerno l'incontro La Legalità per la Pace. La giornata è stata ispirata dall'anniversario della nascita del detective italo-americano Joe Petrosino, originario di Padula. Coinvolgere le giovani generazioni già particolarmente sensibili al rispetto e alla difesa della legalità a far sì che siano trascinatori di pace in questa società già piena di tensioni e di contraddittorietà. Premenire la corruzione, riflettere sui temi della legalità in occasione dei 110 anni dalla morte di Joe Petrosino. Si è tenuta presso l'aula magna dell'Istituto Santa Caterina da Siena Mendola di Salerno l'incontro La Legalità per la Pace, organizzato dal Comitato Provinciale dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra in collaborazione con l'Istituto Santa Caterina a Mendola. La giornata è ispirata al 110 anniversario della nascita del detective italo-americano Joe Petrosino, paladino della lotta contro la criminalità in America. Quando la legalità viene difesa e mantenuta con il proprio sacrificio, ha dichiarato il presidente del Comitato Provinciale dell'Associazione Famiglie Cadute e Dispersi in Guerra di Salerno, Giuseppe Paladino, la pace sarà una sicura conseguenza e renderà tutti liberi e coscienti di essere uomini. Di grande interesse e coinvolgimento per gli studenti, il racconto del pronipote del detective di origini salernitane, Nino Melito Petrosino, di alcuni episodi emblematici della vita professionale e familiare di Joe Petrosino. Il rude ma integerrimo poliziotto italo-americano fu assassinato in Sicilia da alcuni sicari della mafia, allora definita mano nera che vedevano minacciata la loro attività di espansione criminale, verso l'altro continente. Tanti ricordi da trasmettere ai giovani, una ricca pagina di storia. Beh, diciamo pure che fu aiutato da tre cose. La conoscenza della lingua italiana, era partita a 13 anni da Padula, da quella casa dove sono nato pure io e quella casa oggi è l'unica casa-museo in Italia, attenzione, dedicata a un esponente delle forze dell'ordine. Quindi le sue intuizioni scopre questa organizzazione criminale, oltre che a combatterla, crea prima al mondo la tecnica dei travestimenti e chi si era sognato? Si mette una parrucca, baffi finti, si fingeva ubriaca, entrava in quei locali, da lui ritenuti frequentati da criminali ingalliti, doveva ascoltare con le sue orecchie, temeva che i collaboratori ne travisassero le parole. A New York forma la prima squadra di poliziotti e pretende che i componenti conoscessero la lingua italiana, fu accontentato. Forma la prima squadra di artificieri, la chiamò Bombsquade. Pensate all'efficacia del metodo da lui creato, che la polizia americana lo porta avanti per 70 anni, fino al 1969, e poi voglio far notare la riconoscenza degli americani. Oggi, 2019, la polizia americana a New York, in osseguio al suo fondatore, non ha cambiato il nome, si chiama ancora Bombsquade. Infatti io faccio diversi meeting nello Stato e nella metropoli di New York, proprio con la Bombsquade. Poi parliamo dell'unico poliziotto sul pianeta Terra ad avere assicurato alla giustizia circa 20.000 criminali. Sono queste le ragioni che rendono forte questa pagina di storia. Una pista teatrale unica nel suo genere per combattere la violenza di genere. Quello di cui si fa a portavoce il sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Lecce, Salvatore Cosentino. Eva non è ancora nata. Il titolo della rappresentazione è in scena nella sala conferenze della Cantina di Solopaca, sabato 6 aprile a partire dalle 18. Una prima assoluta nel Sannio, che vedrà la partecipazione del prof Felice Casucci, presidente della Fondazione Gerardino Romano, e ordinario di diritto privato comparato all'Università degli Studi del Sannio, e del colonnello Vincenzo Lauro, comandante del quartier generale italiano presso la base Nato di Lagopatria. A coordinare l'evento la professoressa Antonella Nicolella, docente presso l'IIS Don Geremia Piscopo di Arzano, scuola fortemente impegnata nella formazione dei giovani, sotto la guida della sua dirigente, la professoressa Carmela Ferrara, in un territorio difficile dove fare scuola è una sfida quotidiana. Siamo allo sport, calcio e fabbri, l'arbitro designato per Juventus-Milan, anticipo di campionato che si giocherà sabato alle 18. L'altro anticipo, Samp Roma, ore 20.30, è stato invece affidato a Mazzoleni. Domenica all'Olimpico per Lazio-Sassuolo ci sarà abisso, mentre il posticipo serale di domenica in Napoli-Genoa sarà diretto da Pasqua. Calcio, Serie B, conferenza pre-gara per il tecnico Gialorosso Bucchi alla vigilia del match contro i Grifoni. Voglio un benevento sbarazzino e spavaldo, non dobbiamo mostrare il fianco agli avversari, incontro con i giornalisti anche per il tecnico avversario. Nesta, il Perugia dopo il capo di Crotone, nel turno infrasettimanale di martedì, proverà a ripartire sabato proprio con il benevento. Sentiamo i mister. Se vogliamo arrivare ad essere iperoffensivi, dobbiamo fare questi passaggi, anche rischiando, perché per molto tempo abbiamo aspettato, cercando di portare i giocatori in condizione. E poi del resto i giocatori vanno in condizione, nel miglior modo possibile, giocando, perché allenandosi e bastano. E quindi a volte ci sono dei momenti dove uno può essere un po' in difficoltà, però quelli sono momenti in cui si cresce. Si cresce di condizione, si cresce anche di impostazione. Quindi se vuoi sostenere tre, quattro, cinque giocatori offensivi, devi farlo provando, anche rischiando. Se no rimangono tutti bei pensieri, ma poi rimangono lì nel cassetto. Quindi è arrivato il momento per noi, come dicevo prima, di essere consapevolmente sbarazzini. Cioè non entrare in campo e fregarcene di quello che accadrà. No, ma proprio perché vogliamo che accada qualcosa, lo dobbiamo determinare noi. E quindi lì spregiudicati, spavaldi, a giocare, a dominare il gioco, questo è quello che dicevo prima. E in questo ci sarà la possibilità e la necessità di dover sorreggere due attaccanti, tre attaccanti, quattro attaccanti. In base a quanti saremo in grado di fare. L'altra sera abbiamo giocato con, ripeto, con un terzino iperoffensivo e con un trequartista e una mezzala, che erano due esterni pure loro, superoffensivi. Cioè a un certo punto siamo messi 4-2-4 con Viola e Del Pinto in mezzo e poi tutti i giocatori che andavano, perché i terzini andavano, gli esterni andavano. E ci saranno i momenti in cui accetteremo anche questo, perché è giusto farlo. Ci metteremo nelle condizioni di fare dei duelli. Se poi pensiamo di essere bravi, più bravi degli altri, dovremo vincere i duelli. Questa squadra, io credo come tutte le squadre di Serie B, hanno dei passaggi a vuoto. Io vedo anche gli altri che fanno fatica a dare continuità alle vittorie. Adesso in questo momento c'è il Lecce, ma se vediamo la classifica al Perugia nelle ultime dieci partite, forse siamo terzi o quarti. E perciò credo che l'andamento della Serie B, a volte sono molto severo sui giudizi, sui momenti, perché anche io vorrei vincere sempre, come tutti noi. Però a volte bisogna vedere quello che succede veramente, che è la Serie B. Anche questa qui, quest'anno soprattutto, non si vede una squadra che parte, vola via. Anche il Brescia, che ci era sembrato che potesse far questo, fatica un po' anche loro a... tre partite, perciò è la Serie B. Noi credo che non dobbiamo cadere nell'errore di essere troppo duri nei giudizi, perché tutti noi, compreso io, ci aspettiamo sempre il top, perché la squadra magari fa vedere una partita dove fa veramente bene, poi dopo comunque cade degli errori che questa squadra ha delle carenze che ha, e può essere l'esperienza, squadra che non pareggia mai, magari non riesce a portare a casa il punto, magari nel momento che non riesce ad andare in vantaggio. E' anche questo qua, forse siamo un po' inesperti. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alle prigioni del tempo e con il resto della nostra programmazione. Grazie dell'attenzione, arrivederci. Grazie a tutti. Ben tornati a un nuovo aggiornamento realizzato da ilmeteo.it. Previsioni per sabato 6 aprile. Situazione ancora instabile sulle regioni meridionali, con piogge diffuse. Nel frattempo un'altra minaccia perturbata si avvicina da Occidente. Ecco il dettaglio elaborato come di consueto da ilmeteo.it. Nuvolosità in aumento al nord-ovest, con cielo a tratti anche coperto. Qualche pioggia potrà interessare la Liguria di Ponente. Sul resto delle regioni, tempo più soleggiato, ma attenzione alla nebbia sul Trentino Alto Adige. Al centro, giornata più nuvolosa su Abruzzo, Molise e Sardegna, anche con piogge alternate a schierite sull'isola e qualche temporale sull'Appennino. Tempo più soleggiato altrove. Raggiungiamo il sud, dove sono attese piogge moderate su Calabria, Basilicata e Puglia settentrionale, più deboli sul resto della Puglia e in Campania. Tempo soleggiato in Sicilia. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili. Infine, come sempre, diamo uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di un grado e non supereranno i 14 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo fino a 18 gradi al nord, 17 gradi al centro e punte di 20 gradi al sud.